Allora, qui fra Padellaro, Vedo, Scansi, Travaglio, c'è anche Non sai cos'è successo, il mio primo libro, esce oggi, è un insieme di racconti, di storie, anzi saranno 1200 storie, storie piccole e brevi, raccolte in otto anni di interviste sul fatto quotidiano, dove abbiamo incontrato tutti i protagonisti della scena culturale, del cinema, ma anche dello sport, della televisione, della politica, dove hanno raccontato in breve episodi importanti, chiavi della loro vita, è una sorta di commedia d'italiana, dove si può ridere, dove si piange, dove si riflette, dove ci sono anche momenti di goliardia estrema. Da oggi, tutte le librerie, e voglio ringraziare la proprio first che è stata vicina, abbiamo Francesca, Alessandro e Pierre, Pierre ha curato la copertina, bellissima, e grazie mille. Grazie a tutti.